C'erano una volta le rogge e con esse c'era tutto un mondo, mugnai e battiferro, lavandaie e filandaie, percorsi d'acqua e della memoria, acqua che lavava, che bagnava, acqua che correva, che saltava, acqua che muoveva i mulini, acqua che muoveva lavoro, ma anche che divertiva, che schizzava, che teneva a galla i più piccoli, per i quali tutto, e il tutto spesso era fatto di niente, era gioco. Si pensa alle rogge per prima cosa per la loro utilità, per come favorirono le attività quotidiane e produttive in un territorio che aveva bisogno dell'acqua come motore dell'economia e motore della vita. Se tentiamo di ricostruire la storia delle rogge, ci troviamo sommersi nelle ipotesi, ipotesi che riguardano la datazione, l'origine e l'attribuzione, pur avendo anche delle fonti precise, dei documenti di riferimento degli anni proprio per ricostruire questa storia. Le rogge potrebbero diventare allora una sorta di prospettiva, da cui guardare il friuli, da cui guardare la sua storia, le varie dominazioni, l'evoluzione dell'economia e della società e le varie trasformazioni. Nel ricostruire questa storia delle rogge, focalizzando l'attenzione al territorio di Reana del Royale e di Tavagnacco, non possiamo non parlare di Udine. Udine detta la città delle rogge, ma nasce prima Udine o la gallina, prima le rogge o prima l'uovo? È un gioco in realtà che riprende il famoso detto proprio per dire qualcosa di assolutamente storico e riconosciuto, ossia che Udine deve molto alle rogge, perché proprio grazie alle rogge è diventata la città che è e si è sviluppata così e non viceversa. Nel ricostruire la storia delle rogge, che ruolo hanno avuto le donne. Sicuramente un ruolo umile, quello di lavandaie munite di cenere e di olio di gomito, ma anche di ribelli, perché sono state proprio loro ad avere il coraggio di protestare per la sopravvivenza e per la vita. Le rogge non sappiamo precisamente chi possa averle fatte. Ci sono delle ipotesi che parlano dei romani, dei longobardi, che come sappiamo sono rimasti qui duecento anni, oppure dei celti, però con precisione non possiamo dire sono state fatte da questo o da quello. Prevetto, i romani facevano le strade sempre, le più importanti, quando devono fare delle grosse campagne, vicino dei corsi d'acqua o delle soggenti d'acqua dovevano avere accessibilità all'acqua, perché con sostanzialmente di truppe enormi dovevano avere l'acqua fondamentale. Da Aquileia hanno seguito sempre un tragitto, la Giulia Augusta, che si discostava dal castello di Udine ed era vicino al Torre, per cui presumibilmente per tutto il periodo romano il Torre aveva l'acqua, perché non aveva le prese delle tre rogge, per cui il greto, pur assorbendo, quando scorre l'acqua riesce a fare una semi impermeabilizzazione, per cui riesce a portare l'acqua, probabilmente fino alla confluenza con il Natisone e anche successivamente fino a Aquileia, Turlus, un Natisso, citato nei documenti storici, aveva l'acqua. Quindi nel periodo romano non c'erano le rogge, poi sono arrivate le invasioni gotte, eccetera, che hanno devastato il territorio, quindi sicuramente in quel periodo non si sono stati costruiti. Quando sono arrivati i Longobade si è stabilizzato il sistema politico e si è cominciato a costruire. Anche Udine ha cominciato ad avere una sua rilevanza, per cui è probabile che si sia pensato già quella volta di costruire. Santa Fosca è una borgata di Adegliacco, che è molto antica. Se noi andiamo a vedere, forse è più antica della stessa Adegliacco, perché per Santa Fosca transitava la via Iulia Augusta. Nei prati di Santa Fosca c'è il 27esimo miglio, è la strada proveniente da Aquileia. Come sappiamo il trentesimo era il trentesimo, e a Santa Fosca il 27esimo miglio. Qui già abbiamo un'idea, perché andiamo indietro di 2200 anni, quando è stata costruita la via Iulia. Quindi è ipotizzabile che in quel periodo, e siamo prima dei primi documenti citati all'inizio delle rogge, è probabile che sia dato inizio alla costruzione della principale rogge, che doveva servire per forza a Udine, che senza rogge, poi Udine, Pozzuolo aveva solo il Cormor, che non aveva, era saltuario come adesso anche prima, però una rogge era fondamentale. Infatti la prima rogge è arrivata fino a Udine, poi entrava proprio sopra Pozzuolo, entrava nel Cormor. Ecco, quindi, io, è un'ipotesi azzardata, però ragionandoci è plausibile che sia così. Abbiamo una data ben precisa, 4 maggio 1171, dove si parla che la rogge di Udine, quella che passa per Santa Fosca, negli Acchi, da Varito, viene menzionata perché il patriarca volo ricco di Treffeng, concede l'utilizzo delle acque alle contee di Cusignacco e Pradamano. E lì viene menzionata la rogge di Udine, 1171. Poi ci sono anche altre date, se vogliamo parlare, di altre date. Quindi abbiamo un'idea, anche qui, dell'antichità delle rogge, no? C'era un monopolio delle rogge da parte del patriarca di Aquilea, ma quello se ne stava ben lontano, non aveva problemi. E invece il patriarca, occhi per lui, provvedeva a tenere i conti di come lavoravano, di come prestavano l'uso delle rogge ai vari, soprattutto ai vari confinanti delle rogge, no? Che avevano l'acqua portata di mano, e però dovevano corrispondere con moneta, penso, oppure se uno produceva grano o farina, doveva pagare il dazio, per dire, insomma. Però era tutto privato, quindi c'era il rischio di restare anche senza acqua. Tagliavano le paratie qua al suo e l'acqua. Infatti succedeva una volta ogni tanto per pulizia. Chiudevano i bocchettoni a qualso e la rogge restava l'asciutto per due o tre giorni. Dopo è venuto la Repubblica di Venezia, che ha messo delle norme, ha messo delle esenzioni, ad esempio i mugnai, che avevano l'obbligo di pulizia dell'alveo, avevano dato l'obbligo di pulizia dell'alveo ai mugnai, nel tratto fra un mulino e l'altro, ogni mugnai aveva l'obbligo di pulire il suo tratto. In compenso avevano delle piccole esenzioni fiscali, ma avevano l'esenzione al servizio militare riservata al primo figlio maschio, in modo tale che volevano la continuità dell'attività. Erano certi che il figlio rimaneva a lavorare in molino e manteneva pulito l'alveo, esentando da questo obbligo gli addetti della Repubblica Veneta. Dopo sono passate, al fine dell'Ottocento, sono passate le rogge sotto consorzi, sotto enti pubblici, diciamo. Per avere il controllo delle acque, quando si è vista la necessità e l'utilità anche per i mulini, per tutto il resto, perché fino a quando c'era una sola rogge era tutto semplice. Poi già la deviazione di due rogge portava a Godia, eccetera, altre risorse, per cui cominciava a essere... Poi è stata fatta la Cividina, quella di là del Torre, e tra la Cividina e quella di Palma e di Udine di Palma sono state veri eliti e sono andati anche in conflitto, perché ognuno voleva prelevare la quantità che riteneva opportuna, fino a quando è stato regolamentato e messo a posto. Si dice che il Patriarca Voloricco di Trefeng concede alle contee di Prada Mano e di Cusignaco di utilizzare l'acqua in cambio di non so quante staia di frumento che ne so, un affare, no? Cioè, ma anche qui abbiamo l'importanza della cosa, perché tu non puoi utilizzare l'acqua, Cusignaco, se non te la do io. Patriarca di Aculeia, capito il discorso, no? E lì c'è questo documento, in pratica, dice questo, che concede a queste due contee, così chiamate, di utilizzare l'acqua, no? Il discorso, come mi ripeto, Udine, se non arrivavano l'acqua che passa qui da noi, da Zompitta, Udine non avrebbe potuto evolversi come si è, perché l'hanno nominata nel 983 Udine per la prima volta. Era lì una borgata, una cittadina. Tutte le famiglie nobili, le più importanti, avevano un incarico presso il patriarcato. C'erano i canipai, c'erano quelli che servivano alla mesa, i maniscalchi, c'erano... ognuno aveva un suo ruolo. I Savornian erano praticamente i capitani della città di Udine e avevano il castello di Savornian. Per cui, da quando loro hanno avuto il capitanato di Udine, erano quelli che governavano l'acqua delle rogge. Prima era il patriarca che decideva perché le famiglie si sveguivano nel patriarcato e per cui anche il potere cambiava. Quindi non era un potere sull'acqua. Il potere sull'acqua è venuto proprio quando sono arrivati i Savornian. I Savornian, per diversi secoli, sono stati appunto chiamati anche i signori delle acque perché avevano la giurisdizione su tutti gli opifici, non solo mulini, battiferro, pestelli e tutto. Avevano la giurisdizione e il potere su tutte le attività prospicenti alla rogge. Oltre questo, avevano proprietà anche a Cavalicco, vicino all'attuale chiesa, avevano un grande caseggiato dove avevano soprattutto galline, oche, ma tante oche. avevano un'usanza una volta all'anno in paese per tutta la gente nel periodo di novembre, prima domenica di novembre, facevano una festa chiamata Festa dell'Oca invitando tutta la popolazione e offrendo l'Oca e ciottole di bere. Tutt'ora si mantiene questa usanza. I Savornian non erano solo qua, comunque, in tutto il Friuli. Io Savornian penso di definirla la famiglia nobile più potente dei quattro o cinque secoli. Sì, sì, certamente era la famiglia più potente. I Savornian erano definiti i signori delle acque per questa loro pretesa, per questa potenza che erano, perché era una potenza, una famiglia potente, no? Che volevano avere in assoluto il dominio delle acque. Loro avevano molte proprietà a Zompita, dove c'è la presa, come sappiamo, che si dividono le acque, tra cui un castello. Loro, diciamo, che pretendevano di avere il dominio delle acque, no? E c'è stata tutta una grande lotta con i patriarchi del tempo. Dobbiamo andare a finire al 1700, no? Poi le cose si sono... sono cambiate le cose. Non è che hanno lasciato i mulini solo ai più ricchi, no? Sono cambiate le cose e il mondo è cambiato un po', però diciamo che la storia è questa, no? Che volevano l'importanza delle acque, volevano tutti avere le acque. Come ho detto prima, Udine, se non arrivavano le acque, non so se sarebbe esistita, no? C'erano 50 attività nel 1800, nella roggia di Udine, a Udine, tra Filatoi, Battiferro e Mulini. 50 attività. Ora ci andiamo a contarle. Così abbiamo un'idea dell'importanza che hanno avuto le acque e i mulini. L'acque d'otto esisteva soltanto in piazza, una fontana di cui è rimasto un campione qui. Per fortuna, chi ha pensato al bene della gente, ha avuto anche l'idea di recuperare, all'altezza del ponte di Qualso, l'acqua del torre e distribuirlo nelle varie roggie. Infatti, ci sono due o tre derivazioni dal Qualso in giù e queste derivazioni hanno portato per secoli l'acqua nelle famiglie. Lungo sponde della Rozza, a ogni paese, era stata dedicata una Rozza ai lavatori tuttora esistenti, uno a sud di questo mulino, uno a sud bello ampio, un'Amsa ad Adeliaco, uno piccolo Santa Fosca e uno piccolo dopo Mazzilis. La mattina c'erano vari vini, quasi ogni giorno, vari vini di donne, soprattutto le più anziane, con l'arconcello e due tialdeers, due secchi di rame che si prendevano l'acqua o dalla Rozza si dovevano bagnare l'orto oppure dalla fontana unica e rara che era in centro lì per necessità umane. succede che eravamo il 7 luglio 1943, in piena guerra, chiaramente, in piena seconda guerra, fame e miseria. le donne di Adeliaco vanno al mulino per mazzinare un po' di quelle che erano riuscite a portare a casa per fare un po' di polenta, con lo spigolare erano riuscite ad ottenere, un po' di pane, un po' di polenta e trovano il mulino chiuso e allora lì era successo che per decreto del regime fascista era stato ordinato di macinare solo ai contadini proprietari di terra, ma erano pochi quelli, no? e quindi la povera gente che aveva due o quattro panori di poter macinare non era permesso. A quel punto erano soprattutto donne, una trentina di donne, no? Le donne sono andate dal sacrestano del paese, si sono fatte consegnare le chiavi e si sono messi a suonare le campane e lì tutto il paese fuori, cosa succede e cosa non succede, no? Anche lì un puttiferio insomma unico, no? E a un certo punto sono arrivati i carabinieri, questura per cercare di mettere in ordine le cose, no? Però era difficile perché erano scatenate le donne lì a Degliacco. A un certo punto addirittura alcune di queste era riuscita, aveva l'intento di era preso il maresciallo dei carabinieri con l'intento di buttarlo nella roggia di Udine. Ecco, si può avere già anche qui un'idea del carattere, no? delle donne di Degliacco. Poi gli animi si sono placati e è andata a finire che le donne hanno dovuto fare un mese di galera. Però, ripeto, il coraggio di protestare contro il regime, no? Perché da nessuna parte dell'Italia si è sentito che abbiano protestato. Boh, sono chiusi i mulini, non si immagina. A Degliacco no. Quello che colpisce del mondo delle rogge è la ciclicità. Lungo i percorsi delle rogge si ripetevano quotidianamente dei gesti e si svolgevano attività produttive che sfruttavano l'acqua come fonte o come forza. Simbolo di questa economia e di questa ciclicità erano i mulini. Con le loro ruote che erano mosse dall'acqua in qualche modo mimavano proprio anche il movimento, lo scorrere della vita, la ruota della vita e la ruota del tempo. Chi racconta di questi mulini ne parla come di luoghi sacri, di luoghi dell'anima, luoghi della comunità ed erano una sorta di ritrovo delle famiglie che venivano accolte dalla figura del mugnaio. Ogni famiglia portava il suo sacco da macinare ed era un po' anche il sacco proprio della fatica. La ciclicità poi riguardava non soltanto il succedersi delle stagioni ma anche la trasformazione del grano turco e del frumento in farina perché si trattava di gesti che si ripetevano. Pesatura, setaccio, spezzettamento, scuotimento, erano tutte delle azioni che andavano appunto a ripetersi fino ad ottenere il prodotto finale. Lucio, ciao, ciao, ciao. Allora sono Sino. Sono ben, grazie. Mi sembra di tornare dietro di una sessantina di anni. Ah, puoi dirlo Oscar, puoi dirlo? Sì. Puoi dirlo? Mi sembra di rivedere tuo padre. Un buon rino. Sì, è vero. Sento ancora il profumo, il rumore. Io ricordo sempre quando avevo qui i salti che faceva mio padre su quella scala lì, perché per macinare dovevi salire e scendere. Lui in due passi era già di sopra che manovrava il cilindro. E adesso è qui che fa memoria della famiglia, fa memoria di sé. E noi bambini d'estate qui si facevano i bagni. E qui erano i bagni, erano i tuffi, questa parte qui che l'acqua è un po' più fonda. Sì, sì. E si giocava, si faceva i dispetti. Ben ricordi, insomma. Oggi non c'è questo. Non c'è più questo mondo. No, no. Per ricordo che si prendevano le camere d'aria del trattore o del rimorchio per fare un salvagente. Partivamo da Santa Fosca e si veniva giù fino a qua, no. Il mulino lavora come una fonte di energia che nel nostro caso è l'acqua, no? Sì, infatti... È frantuma, è schiaccia, è pressa. La forza motrice dei mulini come di tante cucine qui lungo questa rogia è proprio l'acqua il cui corso veniva modificato probabilmente anticamente era diverso e venivano creati questi cosiddetti salti d'acqua quindi venivano modificato un po' la pendenza in modo tale da creare un dislivello di uno, due metri in modo tale di convogliare le acque in un canale in un canale artificiale in una grondaia per fare un esempio in modo tale che l'acqua incanalata sbatta sulle pale che una volta erano in legno poi in ferro e dia la forza motrice per azionare tutti gli organi del mulino. il funzionamento era abbastanza semplice cioè si prendeva un sacco il sacco veniva prima pensato qui che c'era una bilancia il famoso decimale poi veniva svuotato in questo punto da qui il mais veniva portato sopra al primo piano dove c'era una pulitrice chiamiamola un trevel e arrivava in cima attraverso questi plevatori precisamente quello di mezzo questo qua là sopra c'era una setaccia eccolo dove con l'aiuto di un ventilatore soffiava l'aria sotto e faceva sollevare quella che viene detta la pula ovvero delle particelle di tutolo delle particelle di foglie o delle particelle dello stelo del mais che non possano essere macinate quindi il mais veniva pulito senza impurità arrivava ai cilindri quindi si intendono due coppie dei cilindri una coppia davanti e una coppia dietro che sono dei cilindri rettificati con delle righette in modo tale che girano a velocità diverse in modo tale che il loro movimento diverso addenta il chicco del mais e lo spezza il cereale e lo spezza e la spezza a seconda della distanza fra i cilindri infatti questi si possono regolare in base a quello che si vuole fare e poi passava di lì quindi c'è un primo passaggio basico dove il grano spezzato passa attraverso questo pacchetto di setacci per vedere che ne abbiamo qui sopra uno grosso uno medio medio e questo e uno fino perfetto quello fino chiaramente fa scendere la farina dopo la rozza si usufruiva tanto per i mulini perché fino nel 60 negli anni 60 hanno cominciato a fare i mulini meccanici diciamo che si poteva attendere al trattore ma prima si doveva andare a ricorrere sempre al mulino al mulino locale e dopo dopo il 60 che cominciavano a fare diciamo quei mulini da poter adattare sul trattore le macchine per il bestiame si faceva a casa da soli si andava solo per la polenta un altro aspetto importante era quello della forza motrice perché essendo questa zona un ambiente soprattutto agricolo c'erano i prodotti viada frumento segala che dovevano essere macinati questo mulino come tutti quelli sulla ruota sfruttavano il salto dell'acqua che permetteva il giro della ruota che con gli ingranati entrava all'interno e faceva funzionare tutta 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 l'attività molitoria se parliamo dei mulini e anche qui sappiamo l'importanza che hanno avuto nel corso del tempo i mulini Adegliacco Santa Fosca Cavalicco e anche Areana hanno tutta la loro bella storia insomma per fare un altro esempio nel 1217 c'è un altro scritto che dice per la prima volta vediamo un mulino sulla rogia di Uline nel 1232 Federico II l'imperatore concede il permesso di fabbricare mulini solo ai patriarchi e anche qui abbiamo un'idea di come si indirizzano le cose il mondo no? Questo mulino è stato il primo che lasciò la ruota rinunciò alla ruota la tolse nel 1935 e fece la turbina che è sotto proprio sotto qua c'è la turbina e funzionò con energia elettrica con la turbina con una cabina propria al di là della rozza al di là della rozza c'era una cabina e rendeva autonomo 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 arrivavano la mattina alle 7 e vedi quella lì ruotavano quella manovella lì con questi ingranati facevano partire la turbina che produceva tutta l'energia necessaria all'attività mulino e mugnai era molto interessante perché ci sono venute fuori anche molte leggende perché intorno al mulino c'era tutta un'attività con dicerie strane eccetera perché era e poi il mugnaio decideva come macinare quanto rendeva la macina e tutto il resto quindi era un personaggio importante nell'economia di un paese e anche del circondario perché nei nostri mulini qui abbiamo le vie dei mulini che venivano da Feletto da Tavagnacco eccetera perché prima di avere dei mulini elettrici oppure meccanici venivano a macinare i mulini che erano lungo il corso d'acqua la Bertoli è partita anche quella da un mulino perché qui c'era il mulino dei Foster un tale venuto dalla Sviglia che ha cambiato il sistema di macinazione avevano 5-600 operai in più avevano una cooperativa alla quale si rivolgevano per necessità di lavori urgenti sono andati avanti fino a quando hanno voluto o potuto il mulino di Tavagnacco era importantissimo perché venivano da tutto il comune a macinare c'è la strada che si chiama ancora via dei mulini e a Santa Fosca invece c'era la mussaria dove arrivavano con i mussi e con la roba da macinare nel mulino di Santa Fosca uno più su uno più giù arrivavano da tutto il comune perché in pratica io non so se c'era ancora un mulino a branco e basta le acque erano di qua no? è importante il mulino di Adegliacco come quello di Santa Fosca la mia famiglia andava a vicinare a due mulini il grano il frumento a cavalicco al mulino cainero perché era specializzato nella molitura del frumento mentre quasi ogni mese col carettino si andava al grano turco al mulino di Adegliacco io abitavo poi via dei mulini quindi abitavamo vicino e ogni mese perché si faceva la polenta la polenta si dava anche agli animali poi poi c'era la crusca e tutto il resto cioè il bevarò però ogni mese col caretto si andava e lì si parlava che il mugnaio si stava lì insomma a vedere il lavoro dei mugnaio quello che era molto bello beh prima di tutto vedere il mugnaio che andava proprio fino a aprire il portellone eccetera in modo molto precario un equilibrio stabile eccetera però insomma a quei tempi non c'era l'Inps per cui si potevano fare delle cose che adesso non sono assolutamente vietate ma comunque era bello vedere anche nella tramoggia scendere giù piano piano i grani che scendevano giù e dicevo chissà dove vanno pensavano andassero sotto dopo invece venivano portati al piano sopra dove c'erano insettacce e tutto il resto allora i nostri erano mio nonno e mio padre erano dei piccoli proprietari però un campo due tre venivano coltivati a blave a grano a frumento e a segala che veniva usata venivano usati sia per gli animali che per i cristiani per la gente e andavano nei mulini qui vicino anzi c'era una specie di doppio servizio perché si portava tra il mugnaio che depositava la farina nel forno in cambio di pane c'era una specie di accordo con le varie famiglie e chi portava il grano veniva macinato dal mugnaio che poteva essere di godia o di adegliaco e poi veniva cambiato in pane posso dire due date riguarda i mulini praticamente la prima menzione del mulino di adegliaco risale al 1468 il mulino ha cessato l'attività all'inizio degli anni 80 santa forza invece la prima menzione è del 1556 è cessato l'attività prima a metà degli anni 60 quando il mondo appunto ha cominciato a cambiare gradualmente non è che dall'oggi al domani sia cessata l'attività sempre meno sempre meno fino a quando si chiude questo vale sia per il mulino di adegliaco quello di adegliaco è durato un po' di più poi è stato dato ha preso in mano il comune che come si vede lo ha messo a posto restaurato è dato in gestione all'immaginario scientifico di trieste purtroppo quello di santa fosca è sparito poi c'è stato il terremoto è un'altra storia quello di santa fosca comunque l'importanza di abbe due rimane avendo bisogno del mulino per mazzinare per le bestie per fare diciamo le farine per fare la polenta e dopo è venuto il boom del mais così abbiamo dovuto attrezzarsi per irrigare i terreni per il mais è lì con pompa propria ai tempi per poter arrivare dalla rosa ai nostri terreni e dopo piano piano hanno fatto la centralina per l'irrigazione che per portare via nei campi di Tavagnacco e anche parte di Reana che abbiamo siamo diciamo attrezzati diversamente con le auto con l'acqua pompata diciamo c'è ancora il fascio che è stata fatta la pompa è stato fatto il serbatoio più che altro è un serbatoio di riserva perché sui piani alti di Udine non arrivava l'acqua perché è vero che da tricesimo alla stazione mi pare ci siano 130 140 metri di dislivello però se c'è poca acqua non arriva a pompare fino a su per poi ricadere il meccanismo elettrico tira su l'acqua quando il serbatoio è pieno ferma di caricare e l'acqua si abbassa di nuovo però funziona sempre come tanti tanti mulini sulla roggia al mulino che era posizionato sulla sinistra dello scorere si contraponeva sulla destra una segheria cioè il salto dell'acqua alimentava la parte destra come una piccola ruota per la segheria la parte sinistra alimentava il mulino il fattore è stato il più fidato grande collaboratore della nostra famiglia io sono nato che lui lavorava qua è andato abbiamo chiuso il mulino che lui lavorava ancora qua ha fatto tutta la vita qua mi ha voluto bene si diventa vecchio quando io sono nato 76 anni fa lui lavorava lui lavorava già qua e ha lavorato fino all'85 anno in cui abbiamo deciso di finire l'attività il suo rapporto era idiliaco con la mia famiglia e con me mio fratello mia cugina e tutto era veramente uno di famiglia mio nonno lo teneva sempre a mangiare con sé lavorava era operaio lo teneva sempre a mangiare con sé siccome lui era di lavoro i primi anni andava su e giù gli aveva sopra il mulino creato una stanza che se voleva poteva fermarsi qua e lui mi ha mi ha appunto accompagnato nella mia gioventù nel mulino in tutto anche nella spensiratezza e ho vissuto sempre a fianco lui fino all'ultimo all'ultimo giorno sono quelle persone che ogni famiglia ogni imprenditore ogni si auguro di poter avere di una fiducia immensa al maneggiare la farina al maneggiare i soldi quando andava dai dai fornai a portare aveva carta libera a incassare a portarsi a casa i soldi cioè una cosa eccezionale ho sempre un grande ricordo di lui rogge per i ragazzi di un tempo erano un luogo di divertimento c'è chi nelle rogge ha imparato a nuotare c'è chi ha inventato giochi c'è chi ha creato dei salvagenti originalissimi c'è chi ci andava con gli animali chi ha tentato di pescare pesci d'acqua dolce e c'è chi aspettava l'imbrunire per trovarsi con quel ragazzo con quella ragazza o con gli amici per fare un bagno che inconsapevolmente sarebbe diventato uno dei ricordi indelebili della vita ecco perché salvare questi ricordi raccontare questi ricordi forse proprio per ritrovare quel gusto del divertimento che dava tanto con poco e anche per riflettere su come è cambiato proprio il gioco dal punto di vista antropologico con cosa si sarebbero divertiti quei ragazzi di un tempo oggi e in questo nostro mondo contemporaneo fatto di straordinarie tecnologie e innovazioni quanto le nuove generazioni di bambini e di ragazzi avrebbero invece bisogno di ritornare alla semplicità e a un contatto con la natura la roggia era un motivo di vitalità alimentare la gente i cittadini prima di tutto per l'ambiente agricolo ma poi anche per il servizio alle famiglie che non avevano l'acquedotto in casa e quindi molte volte dovevano ricorrere alla providenza che passava attraverso le loge tant'è vero che ogni gruppo di case aveva il lavatoio pubblico dopo la roggia la roggia luogo di divertimento il tiro dei slacis gli slacis erano sassi piatti tondi chi trovava il migliore comunque vinceva e contro corrente si lanciava sulla roggia chi faceva più saldo vinceva io da piccolo si andava tutti a fare il bagno nella roggia c'erano da feletto andavano poco a sud qua di questa casa c'era che avevano la beach di Adegliacco io con mio fratello invece ci piaceva più la riservatezza andavamo verso Ribis si passava la ferrovia e si andava ed era un tratto che è bellissimo tranquillo molto più profondo che scorreva veloce e lì era bello perché si andava controcorrente lì abbiamo imparato notare in pratica posso raccontare ero piccolino però vedevo miei fratelli che dopo aver fatto una bella giornata di lavoro andavano a fare il bagno loro con i cavalli anche nel periodo quando era tanto caldo e lì si trovavano diciamo dei ragazzi i grandi già adulti e facendo il bagno fra i ragazzi anche con i cavalli per dire andavo non tanto perché la mia famiglia era sempre una famiglia presa con lavoro e non ci lasciavano tanto se si scappava al momento intanto che riposavano un'oretta a mezzogiorno si riscappava fare il bagno e basta dopo di tornare a casa subito prima che si svegli no? si andava un po' dappertutto nella rosa a fare il bagno no? e poi si sono menzionare così sarebbero anche cose banali dire che si faceva qualche scherzo innocente così a chi non sapeva nuotare ma sempre con sì senza cattiveria insomma e penso che non sia il caso di raccontare banalità la rosa poi aveva un fascino con le zone le zone dedicate ai bagni io mi ricordo bambino in quella volta mare era la rosa la rosa d'estate era una festa e si erano creati soprattutto tre zone sulla rosa per andare a divertirsi d'estate fare i bagni uno ha degli acco dove proprio di fronte ai lavatoi quello era un bagno che si faceva sull'imbrunire di notte con la gioia dei ragazzi e ragazzine si faceva di notte e lì fino a quando non arrivava un genitore a sgridarci si tornava a casa ma si tornava a casa a buio un altro bello di fronte all'attuale campo di calcio dove c'è il parco perché bello perché era bello fondo pulito e si chiamava fondon si era chiamato fondon perché c'era fondo erano 30-40 metri ma il più lungo più lungo più lungo tratto dedicato ai bagni non molto i bagni divertimento sull'acqua si calizzava con le zucche si prendeva la zucca si svuotava e faceva la salvaziente nella zona della rogia prima dell'officine Bertoli quello era il posto più bello per nuotare e divertirsi perché era ampio anche lì ampio e profondo dopo la rogia era un divertimento alla siuta come veniva la siuta tutti i bambini ci trovavamo qua nel borgo ci facevamo dare da mio padre i sacchi di juta quelli per la crusca perché sono sacchi molto larghi quindi l'acqua scorreva e un bambino dietro col secco i quattro bambini prendevano i quattro angoli del sacco di juta e quando si è appunto asciuta si abbassava l'acqua si entrava e con i sacchi di juta si andava sotto le alghe si sollevava e si prendeva i pesce non c'erano trotte quella volta era la vrie che avevamo noi i pesce comunque si prendeva parecchio i secchi li portavamo a mia madre che in una lissivaia il pomeriggio se li cucinava si faceva festa nel borgo tutti i ragazzi del paese non solo pure i del borgo si andava a nuotare si andava a rubacchiare qualche celiesia qualche pera negli orti vicini quello si si può dire i tempi erano quello che erano parlo già negli anni 50 60 e negli orti c'era un po' di tutto vicino alla roggia e allora qualche cosa si andava nei momenti di relax del bagno e magari ti vedevano da lontano ti sgridavano ma niente di che cosa vuoi fare un salto due salti della roggia giochi farsi dispetti e basta per noi la roggia era proibita proibitissima devono avermi spaventato con qualche racconto di annegamenti di roggia quindi io non l'ho mai frettato quasi andavamo su di corsa perché dopo c'era sempre la paura che arrivasse il proprietario dei campi vicini oppure la guardia campestre con tanto di divisa e allora un po' poi i nostri erano divisi e se i nostri genitori erano piuttosto severi a croterie attorno rimanevano boschette ai lati della ronda i boschetti oltre al discorso appunto legna principale era un'altra grande fonte di divertimento io ma noi ragazzini come ci divertivamo appunto quello dato prima bagno e tutto e quando in autunno c'era passaggio di uccelli e tutti i nostri uccellini dormono con una pila li illuminavi addirittura li prendevi con la mano camminavi nella rozza le foglie e i rami erano così e si prendevano questa era realtà chi andava a nuotare doveva svestirsi del tutto o quasi perché perché a casa non volevano che andassero e poi c'era l'idea che l'acqua della roggia è un'eagra crude un'acqua pesante perché ci lavorano tutti dentro è fredda e allora per così per scrupolo noi non siamo mai andati o raramente c'era mio nonno che aveva passione siccome questa casa qui di fronte è confinante con la roggia e una parte era del rodaro lui aveva non aveva la cantina attraversava la strada e per divertire i ragazzi prendeva un'ecolce una zucca la sbottava a mo' di barca poi ci applicava due o tre rotelline di schianusse di lei faceva girare il murino queste cose innocenti una cosa che ho imparato da notte una signora sto parlando di 60-65 anni un giorno giocavamo acqua sempre nella siuta quella della siuta c'era sempre nella roda per una roba o per l'altra c'era sempre nell'albero lì e Luigino un po' mica un po' non sappiamo anche lui una vespa per come si sull'avano la roda avevano le vespe l'appunto nel braccio avevamo sentito un urlo un urlo e piangeva questa signora che abitava a 20 metri dalla roda ha sentito l'urla è venuta se ha tu frutto è che vengo è entrata nella roda ha preso un po' di sappia e fango scavato fango ha fatto una visera gliel'ha strofinato dopo 5 minuti è passato tutto e da quella volta quando succedeva un accordo del genere mi sono sempre ricordato di questo fatto sarà stato un caso però 10 minuti dopo era passato tutto con questo unguento naturale quando era poca poca neve 20 centimetri qualcuno si ingegnava a buttare l'acqua e dopo a tirarla con la scopa finché si ghiacciava e facevano la pista di potinaggio qualcuno si rompeva la gamba ma erano quei giochi innocenti che non davano fastidio a nessuno è una storia vera è un fatto accaduto sembra sembra sia un aneddoto tanto per un giorno erano sul fondon qua in parte al campo che notavano l'amico Valdi dice a Bottega va 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 su quel muret che c'è tuttora che era un muretto fatto dai flori nel 1677 che chiudeva tutte le sue proprietà siccome l'agra è alta va per giure e fa su un tuffo te roe tu che tu sa stufarti è andato là va tuffa e sale con qualcosa in testa lo guardiamo era piombato con la testa su un vaso da notte ferro e si era incastrato il vaso da notte testa tanto che Valdi è dovuto andare a prendere un martello battere piano piano perché non erano preoccupati e tirarlo fuori questo è un fatto reale non è sembra una sembra inventato ma è vero il paese poi era storia in tutto il paese storia in tutto il paese porbotecchia simpatici macchiette macchiette perché come dicevo prima in quei tempi ti divertivi ti divertivi sano ma con poco di chi sono le rogge sicuramente di chi le ha vissute oggi invece per alcuni giovani sono diventati un luogo di riposo dallo stress un'occasione per immergersi nella natura le cose sono molto cambiate e se provassimo a mettere insieme le antiche strade romane le rogge le piste ciclabili e poi creare magari qua e là qualche ristoro qualche rifugio di pianura per finire con una festa che potrebbe essere la festa del pane in omaggio ai mulini di un tempo ecco a tutto questo a tutti questi aspetti ci hanno pensato in parte già alcune cose si stanno realizzando dei giovani studiosi e dei giovani visionari potrebbe diventare questo un ponte tra passato e futuro una sorta di turismo lento non soltanto per il tempo del suo andare ma perché permetterebbe proprio di recuperare il tempo perduto tesi, studi, proposte, progetti, idee che arrivano dai giovani o dai sempre giovani forse perché l'acqua ormai l'abbiamo capito ascoltando queste storie è sempre simbolo di vita e allora sarebbe bello poter costeggiare i percorsi delle rogge un po' come risalire il tempo andando un po' avanti e un po' indietro mi piace venire qua per staccare dalla routine e stare in mezzo alla natura in un luogo tranquillo e non affollato è una bella sensazione stare in queste zone sentire l'acqua scorrere gli uccellini cantare è benefico è molto benefico queste zone le frequento da quando sono piccolo sia con la famiglia che con gli amici soprattutto lungo la pista ciclabile già esistente ma anche a piedi e forse è per questo che mi è venuta l'idea di progettare un percorso da poter fare sempre in bicicletta sarebbe interessante è una proposta che io ho fatto vediamo se può andare avanti una piccola deviazione appena dopo perché l'attraversamento sulla roggia di Santa Fosca viene proprio dove c'è la strada Barigliani la Iulia Augusta e per pochi metri segue quella strada lì continuando dritti che è ancora strada comunale si arriva vicino a San Giacomo riattraversa la Barigliani si va a San Giacomo e si potrebbe rientrare e fare il percorso naturalistico e il percorso storico tre tabelle una sistemazione un paio di chilometri poco più e sarebbe una cosa molto interessante perché una piccola deviazione con non grossi costi rimetterebbe in vista che c'è ancora un tratto della Iulia Augusta che ha ancora i muri di sasso ai lati è l'unico tratto in tutta la Iulia Augusta che si può ancora salvare e si può ancora vedere questo percorso parte dal mulino di Giusto e poi si ricollega ad altri percorsi ciclabili che arrivano fino a Tavagnacco ed è molto interessante anche perché possiamo vedere proprio la storia del territorio come ad esempio il mulino c'è ancora il vecchio mulino ed è ancora in funzione ed è una chicca sempre una chicca del nostro territorio perché appunto è sempre rimasto in funzione tuttora lo è e quindi è molto importante anche per questo la pista ciclabile è già esistente è fatta da qui da Zompitta e attraversa i paesi di Cortale Valle Remugnano passa vicino a Ribis attraversa Rizzolo poi in comune di Tavagnacco attraversa i villaggi di Adegliacco Cavalicco e terminamoli nuovo allora in questo punto comincia una pista ciclabile che da proprio la nascita delle rogge le attraversa lungo tutta la loro lunghezza fino a Molinuovo nella mia tesi ho ipotizzato un percorso che partisse un percorso ad anello che passava proprio per questo punto e quindi si ricollegava le piste ciclabili già esistenti e attraversava le due sponde del torre a partire da questo punto fino alla Liga di Crosis e attraversando numerosi siti di interesse geologico naturalistico enologico ma anche storico Lo studio nasce dal capire come vengono valorizzati alcuni territori della nostra regione come ad esempio la parte montana che è soprattutto valorizzata da tutte le camminate e tutti i rifugi associati alle varie camminate e ci siamo rese conto io e la mia relatrice della tesi che non ci sono dei rifugi in pianura e sarebbe molto interessante cercare di sviluppare il turismo anche nei nostri nei nostri territori più pianeggianti e quindi pensare a un'ipotesi di questo rifugio all'interno del nostro territorio soprattutto del mio territorio quindi di Reana perché lo considero un luogo molto singolare della nostra regione e quindi penso che debba essere valorizzato e poi magari in un futuro non solo il mio territorio ma anche altre zone di pianura della nostra regione o comunque di qualsiasi altro territorio e quindi da qui nasce l'idea di provare a immaginarci un rifugio collegato soprattutto alla pista ciclabile perché le nostre piste del Royale sono in stretta connessione con l'Alpe Adria che appunto parte da Salisburgo e arriva fino a Grado e quindi potrebbe essere una tappa particolare all'interno appunto di questo percorso ciclopedonale dove una famiglia o una persona possa potersi rifugiare all'interno di questo parco naturale e possa poi proseguire la sua camminata fino a poi arrivare a Grado ad esempio oppure semplicemente possa cercare rifugio in mezzo alla natura in mezzo all'acqua in mezzo alla fauna e alla frola che abbiamo qui a Reana quindi un ipotetico turista che possa arrivare dalla ciclovia dell'Alpe Adria o che semplicemente possa arrivare da qualsiasi altra parte della regione possa trovare in Reana in questo piccolo rifugio un momento di sosta e di relax immerso nella natura pianeggiante e possa poi la mattina dopo o i giorni dopo riprendere il suo percorso da turista abbiamo proposto un anno un piccolo avvenimento che io vorrei che continuasse se mi lo passe abbiamo voluto fare una festa alle donne dal paese la prigione di Trieste aveva messo su un forno interno per fare il pane anche per la cittadinanza siamo andati a comprare il pane in carcere per fare la festa del pane lì del mulino per le donne è offerto il pane gratuito in contrapposizione a quella operazione che è stata fatta ed è una cosa che andrebbe fare la festa del pane portando avanti tutti i panni sarebbe vicino al mulino alla roggia sarebbe una cosa che nel paese darebbe una caratterizzazione sarebbe molto interessante e io la ripropongo perché vale la pena al mio compleanno ho fatto una piccola festicciola qui e ho voluto fare di nuovo il bagno nella roggia ben credetemi mi sembrerà una banalità ma è stata una cosa bellissima sì ti credo perché l'acqua dolce ha un certo sapore sì sì e sentire quel sapore in bocca quella sensazione sulla pelle mi ha fatto mi ha raggiovanito di 40 anni se mi è tornato bambino ma veramente era una cosa divertente bella perché era una cosa semplice e genomina sì sì mi ha fatto piacere questo colloquio con te è stato un piacere vuoi riparlarne sempre volentieri altrettanto altrettanto sempre volentieri mandi Oscar mandi ciao ciao in as tal spieli dalla roia si legge nei versi di Pasolini e sono stati in tanti i donzei i ragazzi che sono nati e cresciuti lungo questi canali artificiali Renzo Valente il giornalista raccontava della roggia e diceva che per lui la roggia era il rubicone assolutamente da varcare per disobbedire alla madre e quindi riuscire a crescere per novella Cantarutti invece le rogge erano in qualche modo lo spazio della memoria e poi c'era Pascoli che ha cantato lo sciabordare delle lavandaie in effetti quel vociare delle donne delle donne sui lavatoi di pietra e poi quei tonfi dei tuffi dei bambini il lavorio il rumore delle macine quella umanità delle rogge e quella ciclicità dei molini beh tutte queste cose possono essere salvate attraverso viaggi percorsi in quei luoghi attraverso testimonianze e soprattutto attraverso la poesia nel 2012 è stato pubblicato una poesia di Giovanni Codutti in friulano la roe di Chiavalet la rozza di Cavalico la roe di Chiavalet sul puint dai cainers lì la roe cor come una volta mari la muele pluino gire non masane né blave né forment e non ce guardi di corse slisse il lavador di piere ma decinise non resente lave i frus tal fondone lui non ad sul io cui saliz leate a Chiare sale sul io col riguardo che mi console questa è stupenda in poche righe ha ricordato tutto bellissima per me è stupenda niente da dire è stupenda Grazie a tutti. Grazie a tutti.